La sua parte, che è? Sai come sembra? Un pezzo, un paletto, un crozucro. Una montagna che avevamo qui. Ah, è una parte. Sì, sì, ma andiamo a prenderci via. Perchè abbiamo la funiglia. Andiamo a stare da questa casa sua, abbiamo la funiglia. Vendiamo meno. 21 al terzo era base. Adesso parla.